Un saluto e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Trebi Meteo. Nell'avvio della nuova settimana l'alta pressione sarà dominante sull'Europa occidentale e riuscirà comunque ad interessare anche la nostra penisola, determinando stabilità atmosferica e ampi spazi di cielo sereno. Tuttavia è attesa comunque un po' di variabilità a inizio settimana, sullimitatamente all'area tirrenica, ma si tratta di fenomeni localizzati di breve durata. Il clima sarà più fresco in giornata, un po' comunque temperature massime attorno ai 24-25 gradi, non oltre il clima sarà frizzantino invece nella notte e all'alba. In molte zone del centro nord, a pensate, i valori minimi bassini saranno prossimi ai 10-15 gradi. Con questo per il momento è tutto, ma per sapere cosa ci attenderà nel dettaglio sulle vostre località, scaricate e consultatela per Trebi Meteo.